Allora, prima di affrontare anche altri temi, perché sappiamo che la questione della fiscalità purtroppo è un'emergenza, soprattutto per certi territori dove le persone sono anche molto attente, elige all'applicazione, alla corresponsione degli importi, tragici importi, sempre in aumento delle tasse, senza peraltro sgravi, agevolazioni, andremo anche a vedere anche questo. La territorialità, volevo fare anche un appunto, una precisazione, è vero Presidente? Sì, perché come diceva anche il collega Massimo Lazzarini, questo problema dell'abbattimento dei confini delle usle è un problema che noi vogliamo affrontare con molta decisione, visto che abbiamo avuto la disponibilità anche di padrini del Presidente della Commissione Sanità. Soprattutto noi nel Montagnanese, noi abito a Mallara, quindi sono del Montagnanese e da decenni che ci battiamo per avere il 118 con Legnago. No, purtroppo non è possibile. I sindaci... Cosa comporta questo? Spiega chi non è della zona, perché chi non è della zona non capisce logisticamente. I sindaci non si immobiliano su questa questione, è un problema molto sentito e compadrin abbiamo deciso che faremo un'assemblea pubblica su questa questione dell'abbattimento dei confini di cui sarà interessata anche l'alta padovana. Ho sentito ieri alcuni pensionati che vogliono anche organizzare dei pulma per venire a questo convegno. Il problema è questo, che noi abitiamo in una zona che all'inverno c'è sempre nebbia, tantissima. Non c'è viabilità, strade molto strette e Legnago abbiamo 10-12 chilometri per arrivare in questa grande struttura, che è un grande ospedale. Mentre se noi andiamo in altri ospedali, ad esempio questo ultimo di Sant'Elena, abbiamo sui 35 chilometri con quella viabilità che c'è. Se uno fa un infarto non arriva a Sant'Elena. Se c'è la nebbia, peggio ancora. Se ci sono i passaggi a livello, perché non c'è nessun sottopassaggio in tutta la zona e a volte va dai 10 ai 15 minuti anche le sbarre e quindi non si passa. Tu arrivi là se sei fortunato. Non può essere derogata con la luce più vicina? Non ci sono? No, non c'è. Alla fine. Perché anche con quanto riguarda, come ha detto Padrin, che vuole battere al suolo di ospedali di Monselice e di Este, non so se vi ricordate, io sono molto preoccupato di questo. È vero che sono fatticenti, è vero che sono vecchi, ma gli ospedali di comunità dove vanno fatti. Vuole costruire dal nuovo. Benissimo. Però prima di dire che vogliamo fare il nuovo, tanto ci vuole la spesa, ci vuole l'approvazione e dopo di che semmai fai il nuovo. Perché anche questo ci preoccupa un attimino, perché gli ospedali di comunità dove saranno fatti là? E comunque sulla questione dei confini, poi termino, noi pensiamo questa volta di riuscirsi, perché c'è già una proposta di legge presentata in Regione e cercheremo di lavorare con tutti i sindaci, che quella sera vorremmo presenti tutti, e inoltre faremo anche pressione e andremo a incontrare tutte le forze politiche, sia di opposizione sia di maggioranza, perché questa proposta di legge che c'è ferma nel cassetto della Regione se ne discuta e si approvi. Perché alla fine i soldi sono sempre del Veneto, sono sempre da Regione del Veneto e non è ammissibile che uno possa rischiare la vita perché deve fare 35 chilometri al posto di 8-10 chilometri. Assolutamente. Qui stiamo parlando un po' di servizi essenziali, urgenti alla persona. Sì, come dicevo prima, noi appunto ci preoccupiamo molto del territorio, questo è fondamentale, cioè noi occupandoci di aziende agricole, quindi di pensionati anche, che vivono nei territori rurali, per noi questi sono i principi fondamentali. Ricordiamo non solo che ormai sempre di più i comuni, noi insomma abitiamo nella Bassa Padovana, tra l'altro, stiamo vedendo che i comuni piccoli si stanno spopolando sempre di più, forse dovuto anche alla crisi. Ma anche nel settore agricolo? Allora, nel settore agricolo diciamo che a parte il ritorno dei giovani, che c'è un ritorno dei giovani. E questo l'avevamo detto. E questo l'avevamo detto. C'è un accorpamento in parte di aziende piccole nei confronti di aziende un po' più grandi, però insomma le aziende resistono, resistono alla crisi. Penso che sia la parola più corretta proprio quella di resistono, se no addirittura che tentano proprio anche di esistere in tutti i sensi. Però sicuramente le aziende artigianali, il commercio, le piccole e medie aziende, insomma c'è una grossa crisi e chiudono. E quindi di conseguenza questi paesi sono sempre di più popolati da anziani e per questo noi siamo anche preoccupati in mancanza di servizi, soprattutto dal punto di vista del socio sanitario. Assolutamente. Questo è fondamentale. Chiedo a voi, dopo anche il Presidente, non era possibile in qualche modo, siete stati interpellati, intervenire prima, perché è due anni che è stato provato questo piano socio sanitario. E questo è proprio per spiegare, perché immagino anche la domanda che viene posta, viene spontanea a molti, ma perché adesso a due anni di distanza, quando ormai il dado è tratto, ben poco si può fare, sì, dei correttivi, dei palliativi, però ormai dal punto di vista legislativo tutto è stato stabilito e non un po' prima. No, ma il piano socio sanitario prevede queste cose. Il problema qual è? Che non viene applicato. Eh, ma ci si poteva magari immaginare che... Eh, beh, questo è un problema politico e insomma in Italia sappiamo che le cose dall'approvazione prima che vengano applicate i tempi sono abbastanza lunghi. Però partiamo anche da un presupposto, per esempio all'ospedale di Conselve, l'anno scorso, l'altro anno, non mi ricordo, quando doveva essere chiuso. Grazie al nostro intervento e anche di altre forze presenti nel territorio sindacali siamo riusciti tramite raccolte di firme e anche assemblee. Quindi si riesce volendo a fare qualcosa se ci si muove. Certo, sicuramente, sicuramente, insomma, la disponibilità anche c'è. Ripeto, la sanità è uno dei problemi fondamentali, non solo nel Veneto, tra l'altro la sanità veneta è una anche di quelle, insomma, che migliori a livello italiano. Però tutto nasce anche da un problema nazionale, cioè sappiamo la riforma del UEFA, il decreto Balduzzi e i vari decreti sull'affendire più e quindi sui tagli, sui tagli del pubblico e quindi anche della sanità. Assolutamente. Lei come la vede, Presidente? Io... Perché poi non riguarda solo i pensionati, per quello intendo dire... Come la vedo sotto il punto anche fiscale di passazione? Se diceva sempre questo, delle possibilità di intervento, secondo lei ci sono margini ancora dal tipo di risposta? Io presuppongo di sì, con la scusa che non è andata attuata ancora al 100% e ancora in visione di questa riforma sanitaria, credo che alcuni paletti si possano ancora porre e trovare qualche rimedio sufficientemente gratificante per tutta la comunità. No, ti dico, questo è importante perché se le persone, chi ci ascolta, che è della categoria o a prescindere, sa che comunque facendo blocco duro, come state facendo voi in qualche modo, dialogando, discutendo, c'è possibilità di ottenere qualcosa? Questo è significativo perché allora uno magari un po' di impegno ce lo mette, no? Noi ci mettiamo tutto l'impegno, se però dall'altra parte uno fa finta a non sentire o non capta il messaggio perché ha degli interessi o degli introiti di proprio conto o di alcuni, sicuramente non andiamo da nessuna parte, è quello per cui stiamo pagando tutte queste conseguenze in questi ultimi vent'anni di comunità, di società in cui tutti viviamo. Assolutamente. Ci sono anche degli esempi positivi, per esempio a Carmignano è nato, sta nascendo il primo a FTP, grazie anche all'intervento di una nostra pensionata, una carissima signora che è veramente battagliera e che si occupa di queste cose e lì si muove qualcosa, doveva nascere a Piazzola sul Brenta, non è nato a Piazzola sul Brenta, è nato a Carmignano per problemi politici, però qualcosa si muove, è chiaro che dove c'è il presidio anche di forze sindacali come la nostra che si battono sicuramente le cose magari avvengono con più celerità e noi speriamo che anche con l'Unione insieme con altri sindacati, noi siamo all'interno anche del CUPLA che è praticamente quell'organismo che rappresenta un po' tutti i sindacati del mondo del lavoro autonomo, speriamo appunto che anche con loro riusciamo anche in altri territori della provincia a riuscire a far partire questi centri che sono fondamentali. Assolutamente, le luciatori sono fondamentali. Continuano arrivare messaggi nel frattempo da parte dei telespettatori che lamentano il fatto di essere bypassati nella tempistica tra paganti, essendo paganti o non essendo paganti, il fatto che comunque se vuoi la sanità immediata sei in urgenza o la reputitale perché poi vabbè se uno ha un problema, si sente una pressione, deve pagarla e via dicendo, quindi un discorso di una sanità che costa sempre di più al cittadino. Sì, infatti i ticket sono costati 3 milioni di euro ai pensionati e ai cittadini, non è una cifra piccola e addirittura è aumentata di 770 mila euro i ticket. quindi anche su questa questione di ticket noi siamo contrari a qualunque ticket sulla salute perché se la persona sta bene e si può curare è una spesa anche meno per tutti quanti i cittadini. Noi su queste questioni della sanità proprio l'altra settimana abbiamo spedito una lettera al presidente del cupla di Padova che è quello che rappresenta otto associazioni artigiani, commercianti e agricoltori per incontrarci per vedere quale iniziative assieme possiamo fare su questi problemi della sanità. Ecco quindi noi su questo voglio dire con chiarezza non vogliamo assolutamente mollare e abbiamo intenzione di fare anche delle iniziative laddove sarà necessario clamorose. Clamorose, che cosa ne dice? Che noi le appoggeremo in tutti i sensi perché credo che questi siano i diritti che spettano ai contribuenti e alla cittadinanza non solo padovana ma anche regionale. No perché via via che il tempo passa si fanno percepire sempre più come emergenza questa tipologia di problematiche perché prima uno è attendista poi possibilista poi alla fine si vedono i problemi lei ha fatto alcuni esempi però poi alla fine quando ci si trova oberati da una situazione fiscale pesante queste sono la sanità diciamo uno degli aspetti fondamentali. La capacità della nostra associazione della Confederazione Italiana Agricoltori è quella di porsi gli obiettivi e darsi anche dei tempi e lo stiamo dimostrando da parecchi anni che quando puntiamo i piedi su determinate cose e siamo convinti vogliamo raggiungere l'obiettivo che ci poniamo. Affrontiamo anche la questione che è purtroppo all'ordine del giorno e quindi quella della fiscalità. Sto parlando della Tasi. Il giorno giusto. Esatto, il giorno giusto però mi sembra anche doveroso perché questo dell'aspetto della sanità è molto molto importante voi ne avete raggiunto consapevolezza e se vi state muovendo in qualche modo poi si spera rispondendo anche a un interrogativo da parte dell'intero spettatore che si possa far massa comune e qua glielo chiedo subito poi andiamo in pubblicità. Voi della CIA con Coldiretti e quindi rispondiamo alle istanze di chi ci ascolta in che rapporto siete da questo punto di vista questo problema perché l'unione fa la forza. Noi abbiamo dimostrato di essere in grado di creare rete però gli unici che si escludono e che si auto escludono credo siano talvolta proprio solo loro della Coldiretti perché noi con Confagricoltura, Coppagri, Lega Copp siamo riusciti a dimostrare di aggregare, di mostrare cosa vuol dire fare rete con Agri insieme e quindi anche a livello nazionale avere un certo peso politico dal punto di vista della rappresentanza talvolta sono sempre loro e non si capisce il perché si vogliono emarginare o seguire determinate linee che magari a parole sono condivise però a fatti poi cambiano rotta. E quindi c'è questa scissione nella categoria che è abbastanza, che è rilevante che lei lo conferma insomma. Sicuramente sì però mi auguro di cuore che nell'immediato futuro cioè nel presente più immediato perché i bisogni di quello che il mondo agricolo necessita non è che si può rimandare al domani quello che si può fare a oggi sono di massimo auspicio perché venga concretizzato anche con loro infine i problemi del mondo agricolo sono uguali per tutti. Le chiedo, non è dovuto al fatto anche il tipo di sistema che avete gestionale cioè voi avete scelto di essere voi agricoltori, gli artefici e i costruttori dell'associazione quindi la CIA ha fatto un cambiamento della rappresentanza politico-sundacale poi la parte gestionale diciamo è ancora relazionata da funzionari che sa molto bene come funziona la macchina altrimenti sarebbe drammatico. Però insieme si riesce a fare quella forza sufficientemente forte per risolvere determinati problemi e quindi mirare a determinati obiettivi ponendosi dei tempi e cercare di risolvere quello e dare risposte alle persone concrete. Perfetto, andiamo in pubblicità poi parliamo anche delle tasse.